A pochi giorni dai fatti di Parigi e dalla ricorrenza del Giorno della Memoria, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Regionale, Mauro Laus e Nino Boeti, hanno ricevuto una delegazione del gruppo dirigenti Fiat e dell'Auschwitz-Birkenau Museum, insieme a esponenti della comunità ebraica. Occasione dell'incontro, la visita del direttore del museo a Torino, dove ha ricevuto da FCA le chiavi di due automezzi destinate alle attività culturali del campo.